Eccellenza, Pescara ha ricordato il 2 giugno una ricorrenza non solo per ricordare ma per rappresentare valori importanti della Repubblica Italiana. Sì, ieri sera a Palso di Governo abbiamo sottolineato questo. Noi non celebriamo la nascita della Repubblica, ma celebriamo più che altro la nascita della democrazia, il modo di vivere con cui ci siamo abituati ormai da 70 anni e che nessuno ci può togliere. Ma se non ci sono i valori non possiamo andare avanti con la testa alta. Tanti studenti, tanti giovani oggi per riaffermare l'importanza dei valori della nostra Repubblica. Eh sì, 70 anni sono un lasso di tempo ampio, sono i 70 anni della nostra Repubblica ma sono anche i 70 anni della nostra democrazia che non dimentichiamo è nata sulle ceneri e sulle macerie fumanti della guerra e sul delirio del fascismo. E poi c'è anche i 70 anni, ci sono anche i 70 anni del voto femminile, una conquista importante che oggi si dà per scontata forse ma che non lo era certamente 70 anni fa. E poi un pensiero che magari non c'entra molto ma secondo me sì, a Sara Di Pietrantonio è quella ragazza di Roma che ha fatto una fine orribile, strangolata e poi bruciata dal suo fidanzato. Il voto femminile è importante ma anche il rispetto delle donne lo è altrettanto e mi sembra che la cittadinanza sia stata sensibile sul punto.